Mi fa piacere rivedere una partita del genere, sono sicuro che tutti noi in lunedì giorno di poso abbiamo pensato all'errore che abbiamo fatto, rivederlo ci ha fatto capire ancora di più quali siamo stati, magari anche io parlo di me stesso, pensavo di aver fatto alcuni errori, alcune altre cose pensavo di aver fatto bene e vedendo il video mi sono ricordo che magari alcune cose che pensavo di aver fatto bene invece erano fatte male, insomma per vedersi aiuta parecchio a capire quali sono stati gli errori e l'unico motivo per cui ci siamo riguardati è per non commettere più, insomma cercare di migliorare in vista della prossima partita. C'è sicuramente il vantaggio casa conta tanto, tifosi danno un grande appoggio, soprattutto in una piazza così come viene, è anche quello che però come detto Riggente è una squadra che è uno dei giocatori che ormai si conosce da 4-5 anni a Calcone con lo stesso allenatore e hanno dimostrato di poter stare ad alto livello, quindi è una squadra che si conosce e che sa quello che deve fare per vincere, sicuramente sarà una partita tosta, noi da nostra parte sappiamo qual è il nostro scopo, qual è il nostro obiettivo per questa partita e sappiamo con quale mentalità bisogna approcciare la partita e che è una mentalità completamente opposta a quella che abbiamo avuto domenica scorsa, sicuramente sarà una battaglia, noi cerchiamo di fare il nostro meglio e con l'avvento del pubblico se riusciamo a fare le cose che dobbiamo fare, che sappiamo fare, secondo me riusciamo a portare a casa dai due punti. Grazie. Grazie.